Musica Buongiorno a tutti e bentrovati ad una nuova puntata di Oggi parliamo di ed oggi parliamo di problematiche che riguardano la sfera femminile parliamo quindi di salute mentale femminile ed anche purtroppo di disagi femminili e lo facciamo in compagnia di Elisabetta Rizza che da 30 anni si occupa di riabilitazione psichiatrica ed è anche una curatrice esperta di eventi Elisabetta io intanto ti ringrazio per questo spazio che ci hai concesso dunque parliamo anche dell'evento che si è proprio da poco svolto a Modica in occasione della giornata della salute mentale nazionale in cui poi al Dipartimento di salute mentale di Modica vi siete proprio occupati della sfera femminile ecco come è andata, quali sono stati i risultati di questi Open Day e di tutti gli altri eventi collegati? Sì intanto io ringrazio te, ringrazio voi anche a nome delle mie colleghe e dei miei colleghi e di darci la possibilità di continuare ancora questa, di raccontare un po' questa esperienza importante che abbiamo fatto il 10 ottobre in realtà il 10 ottobre si celebra diciamo così la giornata internazionale della salute mentale in tutto il mondo quindi è una, diciamo un passaggio fondamentale è riconoscere che nella salute c'è una parte mentale che è fondamentale addirittura alcuni dicono non c'è salute senza salute mentale nel senso che poi tutto ci attraversa e tutto diventa poi nostro patrimonio di affettivo, emotivo, di esperienza diventa ricordo anche la malattia anche quando solo è solo fisica per cui c'è questo bisogno di fare sintesi ogni anno di quello che è un po' il mondo della salute mentale quest'anno è stato il 10 ottobre con una sottolineatura importante che era legata appunto alla salute mentale femminile e noi abbiamo come dire accettato questo invito a essere presenti con questa giornata e Modica è stata credo l'unica all'interno dell'ASP a onorare questa giornata con degli eventi specifici e abbiamo fatto appunto questa giornata intanto di informazione, di apertura del servizio in maniera come dire estensiva, aperta tutto il giorno e poi nel pomeriggio invece un incontro seminariale di approfondimento con quattro relatrici, la dottoressa Barone, la dottoressa Caccamo, la dottoressa Rute e la dottoressa Tomaselli che hanno approfondito appunto delle tematiche più specifiche legate alla salute mentale femminile adesso poi ci torno magari al contempo abbiamo inaugurato una mostra tutta al femminile e qui ho l'altra parte del mio lavoro che è quello di occuparmi di laboratori espressivo artistici all'interno del Dipartimento e poi di curarli anche in virtù della mia formazione specifica di curatrice una mostra dicevo di opere di lavori tutti fatti da donne all'interno del Dipartimento di Salute Mentale fatti da utenti, da partecipanti esterni e da artiste che abbiamo selezionato e messo in una maniera tale che raccontassero diciamo con questi elaborati di pittura, scultura e fotografia tutto quello che prima invece era stato un po' raccontato a parole la salute mentale femminile intanto diciamo che qualche numero l'utenza femminile è maggiore di quella maschile anche se ha delle difficoltà a volte maggiori ad accedere ai servizi e quindi già questo è un dato importante e diciamo anche che alcuni passaggi della vita della donna hanno come dire delle caratteristiche che per fisiologia, per ciclo, per poi tutta una serie di cose di situazioni che noi possiamo andare ad approfondire una per una determinano nella donna una particolare fragilità se noi pensiamo ad esempio al discorso della maternità in sé aspetto meraviglioso è anche vero che tutto questo può avere poi all'interno del suo percorso delle fragilità particolari a parte la parte immediatamente successiva al parto delle forme di depressione che vengono prima mascherate come facenti parte del postpartum eccetera fino a scaturire in altro quindi ci sono delle fasi nella vita delle donne che sono particolarmente delicate e vanno come dire approfondite e esaminate con un'ottica come dire che va oltre quella specifica del binomio salute-malattia ma indagate in un'ottica più ampia e quindi può essere il ruolo della donna nella società una delle cause che poi porta a questi disagi? allora il ruolo della donna nella società è un ruolo sicuramente complesso è sempre più complesso in una società che si è complessificata nel suo insieme certamente come dire la società non è più divisa in grandi schemi come era la società dell'ottocento quindi il maschile, il femminile il privato, il sociale il mondo della casa, il mondo del lavoro questo è vero che era come dire una maniera molto semplice di codificare la vita altrettanto rigida per carità e altrettanto frustrante sicuramente per cui però definiva alcuni assi la società che si complica la società che mette in campo poi invece i diritti le libertà individuali le identità è chiaramente una società che poi chiede anche di più per cui il ruolo della donna è chiaro esatto la mia domanda è una donna deve essere nel caso in cui sia sposata e abbia dei figli o anche non sposata ma comunque una brava professionista una brava mamma una buona moglie una buona compagna ecco tutto questo può a volte entrare in contrasto deve obbedire tantamente a tanti obbedire nel senso a tanti ruoli e tanti ruoli sono difficili da mettere insieme perché quando ogni modifica individuale deve necessariamente e obbliga necessariamente anche una modifica sociale cioè è assolutamente fondamentale che ogni persona esprima tutto il proprio talento e tutta la propria il proprio essere quindi assolutamente nel diritto di ognuno di poter essere madri ma di poter essere anche donne nel mondo del lavoro di poter dare il proprio talento il proprio contributo io direi anche un dovere nei confronti della società di esserci nella maniera più totale è anche vero che la società poi deve un po' ridisegnare i propri ritmi i propri ruoli anche in termini di servizi negli anni 70-80 quando appunto le donne in grande misura andavano a lavorare e quindi c'era questa necessità poi della gestione dei figli quante lotte si sono fatte per ampliare i servizi quindi gli asili nido le menze cose che noi adesso diamo un attimo per scontato come facente parte di una routine in realtà sono state delle conquiste fondamentali perché hanno sancito proprio un modo di come dire vogliamo essere nella società ma vogliamo esserci in maniera di poterci anche stare ma stare per tutti perché quando qualsiasi essere umano si esprime nella propria totalità nella completezza del suo essere questo è un beneficio per tutta la società non solo per le donne certo è chiaro che i benefici vanno per più piccoli anche per la spera maschile assolutamente assolutamente la completezza di una madre che realizza interamente il suo modo di essere è chiaramente un beneficio anche per i figli non c'è dubbio poi naturalmente stiamo parlando di un mondo come dire tutto bello tutto bello tutto organizzato tutto e poi ci sono invece i risvolti della medaglia la complessità di trovare il lavoro la gestione quotidiana il carico familiare il sentirsi inadeguata perché devi fare tutti questi ruoli allora manchi di qua manchi di là arrivi di fretta di qua di trucchi insomma tutte le cose che poi ci sono ecco e da lì possono nascere appunto dei disagi ma come si manifestano e se si manifestano perché è importante rivolgersi a degli esperti? sì allora intanto noi dobbiamo certamente come dire fare chiarezza su quello che è uno stato di disagio che è legato a una difficoltà transitoria della vita organizzativa e quindi dobbiamo distinguere diciamo la tristezza da quello che è poi uno stato reale di disagio intanto per il tempo c'è un lungo stato di disagio un disagio che si protrae per troppo tempo senza che si riesca a trovare una via d'uscita e questo già ci deve mettere un po' in allarme e poi tutti quei parametri che via via si vanno un po' alterando o perdendo quindi la perdita un po' dell'interesse per la giornata un certo attitudine un po' ad essere trasandati l'allontanamento dell'area relazionale quindi tutti quei parametri che normalmente come dire ci consentono di avere una vita completa no? piena generosa no? del nostro vivere con noi stessi e anche con gli altri quando mano a mano vanno vanno un po' come dire appunto alterandosi diminuendo modificando nelle loro caratteristiche queste ci devono mettere in allarme ci devono mettere in allarme e chiaramente noi cosa diciamo è importante una diagnosi precoce quindi è importante per fare una diagnosi precoce è importante affidarsi subito a un servizio competente nel senso che l'amico non basta più il supporto il consiglio non basta più ti devi affidare persone che sappiano leggere che cosa c'è dietro questo disagio se c'è in realtà un inizio di qualche cosa o che altro quindi l'importanza della diagnosi precoce l'importanza di afferire ai servizi giusti l'importanza di una presa in carico complessiva cioè di un servizio che abbia la capacità di accogliere la tua domanda nell'insieme delle cose perché il problema della salute mentale non è un problema solo di malattia o di altro è un problema che va raccolto in un'indagine che è sociale storica personale ma anche come dire appunto sociale quindi è legato a tutto il mondo a stili a valori educativi alla tua storia personale per cui va letto e va raccolta nella totalità della sua complessità proprio certo è chiaro anche per questo è importante parlarne assolutamente ma c'è ancora tanta paura a rivolgersi insomma a voi sono in tanti ad aver paura a dire anche paura di una diagnosi perché poi il disagio allo stesso tempo comporta un po' di paura anche a parlarne sì allora io lavoro in salute mentale da più di 30 anni e mi ricordo perfettamente i primi accessi al servizio che avevano sempre una come dire una storia di altro non dico il passaggio dal mago che c'era pure dall'affidarsi sicuramente alle cliniche intanto fuori fuori del nostro territorio poi alle cliniche private in ultima battuta poi al servizio pubblico questo è un po' modificato devo dire al servizio si arriva prima con minore difficoltà sicuramente la paura dello stigma c'è nel senso intendo dire quando si accede a un servizio di quel tipo si ha sempre la paura di essere etichettati come matti perché ce l'abbiamo questo spauracchio dietro leggevo l'altro giorno ad esempio che nei servizi per il disagio degli adolescenti per dire in Inghilterra questi servizi di solito sono allocati ultimamente non sono allocati in strutture che sembrano strutture sanitarie ma sono allocati in appartamenti in luoghi totalmente neutri perché questa difficoltà dello stigma c'è per abbattere questa paura ma anche questa paura a sentirsi in un certo senso giudicati certo certo non è chiaro è uno specchio che ti dice delle cose e quindi confronto anche con se stessi a quel punto hai proprio ragione è proprio difficile applicato da superare come step quello forse è proprio il primo step da superare cioè l'accettare che c'è un problema da risolvere sì quella credo che sia la fase proprio più complicata e poi accettare che qualcuno si prenda cura in quella fase della tua vita di te e per questo è importante rivolgersi lo diciamo ancora una volta a degli esperti lo diciamo certo sicuro lo diciamo ed ora in ultima battuta parliamo sempre di disagio anche se è diverso parliamo di problemi di genere e quindi anche insomma della lotta alla parità a che punto siamo secondo te tu che ti approcci con molte donne parli anche di questo perché capita un po' a tutte di ricevere degli insulti delle battute che vengono considerate sessiste magari certe volte lo sono pure a che punto siamo allora io che sono una proprio irremorbibile ottimista e guardo il mondo sempre con degli occhi molto molto positivi dico che io amo le ragazze di oggi perché sono libere sono hanno superato un sacco di pregiudizi un sacco di tabù e poi hanno la possibilità veramente di scegliere non si poteva tanto scegliere 30 anni 40 fa la propria strada cioè non ho tanti vingoli adesso si è molto più liberi di scegliere si ha molta più libertà meno pregiudizi molta più serenità anche nell'affrontare le relazioni insomma tante cose si sono si sono modificate io ho un timore però che quando le cose poi si danno un po' per scontate o poi si dice ma tanto ormai abbiamo raggiunto non c'è più bisogno eccetera io poi ho sempre qualche timore qualche remora nel senso che poi gratta gratta c'è sempre c'è sempre un maschilismo che viene fuori oppure un pregiudizio che viene fuori ma a partire dalle donne a partire dalle donne cioè questo non a volte mettersi indietro oppure ritornare a vecchi schemi io sento ancora dire faccio la mamma non faccio quello per me sono delle cose che non hanno come dire sono molto pericolose da un certo punto di vista cioè siamo noi stessi ad utilizzare schemi maschilistici siamo noi stessi ad utilizzare schemi più che maschilistici schemi tradizionali schemi usuali schemi che ci appartengono perché appartengono alla nostra alla nostra cultura e quindi io dico che ogni volta bisogna un attimo cioè bisogna riflettere bisogna pensare bisogna mettere sempre in un po' in discussione le cose che si fanno non dare non dare per scontato le cose oppure dire ma tanto ormai queste cose sono raggiunte facciamo attenzione non sono raggiunte perché se noi consideriamo ancora il livello di disoccupazione maggiore nelle donne piuttosto che negli uomini ci sono tante cose che ancora vanno anche a livello salarario scusa se ti interrompo risultano rispetto agli uomini pagate meno pur svolgendo competenze uguali o comunque similari sono assolutamente d'accordo su questo però io chiaramente che insomma che provengo poi anche da un ragionamento sulla questione femminile perché mi sono avvicinata a questi temi in adolescenza e io faccio parte proprio di quel periodo in cui questi temi erano diciamo molto in fermento dei movimenti studenteschi e quant'altro dico che la questione non va per opposta nei termini di rivendicazione nei confronti di qualcuno e a partire da noi stessi noi dobbiamo fare il mondo noi siamo il mondo che vogliamo fare cioè se vogliamo libertà dobbiamo cercare libertà se vogliamo diritti dobbiamo cercare diritti se vogliamo indipendenza ce la dobbiamo costruire questa indipendenza ma non rivendicandola al maschio ma facendoci portavoce in prima persona di quello che vogliamo mi piace proprio questa tua considerazione quindi non riversiamo questa frustrazione quando c'è verso l'altra parte non è colpa dell'altra parte siamo tutti figli di uno stesso mondo culturale e agiamo nello stesso mondo culturale del resto questi maschi saranno pure figli delle donne quindi qualcuno li avrà anche educati esatto sì 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 quindi serenamente ma a partire da noi stessi e la questa libertà di mentale questa libertà che dobbiamo costruirla dobbiamo proprio rimborcarci le maniche lavorare cercare e cercare di essere quanto più possibile persone complete quindi con questa bellissima considerazione io direi di chiudere anche perché lo spazio a nostra disposizione è terminato ti ringrazio tanto per aver approfondito queste tematiche moltissimo per avermi dato modo di anche di come dire raccontare un mondo che ormai alla mia età come dire penso di avere costruito pezzo per pezzo ma che non manca mai di essere ancora ricercato e completato non mancheranno le occasioni grazie mille una buona giornata buongiorno grazie mille